Smentita categoricamente dagli inquirenti la notizia circa l'individuazione di una motopesca per la quale sarebbe già scattato il sequestro. Nella tratto di mare dove è avvenuto l'incidente costata la vita alla 63enne Mario Deustacchio, fanno sapere dalla direzione marittima di Pescara possono navigare o scafi da diporto o piccole imbarcazioni da pesca. In base alle poche testimonianze raccolte si stanno affettuando verifiche su un paio di imbarcazioni che hanno transitato in zona nelle ore antecedenti al ritrovamento del corpo del povero Mario Deustacchio. Intanto l'autopsia non sarà disposta prima di domani quando il corpo sarà trasferito all'ospedale di Teramo. Mario Deustacchio, 63 anni, molto conosciuto a Silvi, dove il fratello Enzo, proprietario di una vongolara, aveva deciso come suo solito farsi una lunga notata nel tardo pomeriggio. Il suo corpo a pelo d'acqua è stato notato da un pescatore che ha dato subito l'allarme. All'inizio si è pensato a un malore, ma quando gli uomini della guardia costiera di Giulianova lo hanno issato a bordo si sono accorti di alcune profonde ferite sul capo e su altre parti del corpo. Da qui l'ipotesi che possa essere stato investito dall'elica di un'imbarcazione, tuttavia solo l'esito dell'autopsia potrà accertare la causa della morte. In ogni caso il sostituto procuratore di Teramo, Greta Aloisi, ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo e solo domani darà incarico al medico legale Giuseppe Sciarra per l'esame autoptico.